Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Oggi sono qua per parlare dei libri letti nel mese appena trascorso e quindi per fare insieme a voi il wrap up del mese di aprile 2022. Quest'ultimo mese ho portato a termine la lettura di cinque libri, e niente, adesso vado a presentarveli, ve ne parlo un attimino e sperando di darvi qualche suggestione, come sempre. È stato un mese abbastanza soddisfacente dal punto di vista letterario, soprattutto per un paio di titoli che mi hanno particolarmente coinvolto. C'è stata anche un'arrabbiatura, ma ne parleremo tra un pochino, ma Bando e Cianci, visto che ci sono cinque libri di cui parlare, inizio subito, altrimenti mi pergo sempre in chiacchiere inutili. Il primo libro che vi presento e di cui vi parlo è una variazione, si tratta delle pene d'amore di Edward Gardiner, di Nicole Clarkston. Questo cognome ha faticato a entrare nella mia mente per tutta la durata della lettura e, come vedete, anche dopo. Non so perché. Comunque, eccolo qua. Edito, vintage editore, nella colonna delle variazioni. Sul mio blog, matteozzanini.it, e sul mio profilo Instagram potete trovare altre recensioni, di quando ancora non facevo video su YouTube, di questa casa editrice, che appunto è specializzata in romanzi storici, romance e in variazioni. Quindi, autori e autrici che prendono romanzi classici e ce ne propongono delle variazioni, per l'appunto. Quindi, o dei prequel, o dei sequel, oppure dei mutamenti di sorta all'interno delle trame. Nel caso specifico, come molti sicuramente avranno intuito, Le pene d'amore di Edward Gardiner è un prequel ideale di Orgoglio e Pregiudizio, il masterpiece di Jane Austen, che tutti conoscono e amano. Che cosa ci racconta Le pene d'amore di Edward Gardiner? Sostanzialmente, l'iniziale incontro e lo sviluppo della storia d'amore tra Edward Gardiner e sua moglie, Mrs Gardiner. Chi sono i Gardiner? Sono gli zii di Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia Bennet, le cinque sorelle Bennet, che, insomma, rendono la trama di Orgoglio e Pregiudizio frizzante e interessante. In questa variazione, appunto, di questa autrice, che tra l'altro scrive sotto pseudonimo per una rinomata timidezza che la contraddistingue, almeno così ci viene detto nella biografia, seguiamo le vicende che portano, appunto, il signor Gardiner a incontrare la donna che sarà poi la donna della sua vita, la quale, tra l'altro, intesserà in maniera non premeditata delle relazioni con coloro che poi diventeranno i suoi parenti più stretti, ovvero i Bennet. All'interno del romanzo, tra l'altro, incontriamo tantissime altre figure, quasi tutte, in realtà, dell'originale Orgoglio e Pregiudizio, perché troviamo il signor Darcy, la sorella Georgiana, troviamo Lady Catherine de Bourgh, troviamo il signor Collins, ovviamente la famiglia Bennet e quindi tutta una serie di personaggi, il signor Wickham anche, tutta una serie di personaggi che fanno, insomma, intiepidire il cuore di chi ha amato l'originale di Jane Austen. La trama è molto concitata, è un romanzo estremamente avvincente e che permette a chi ha amato Orgoglio e Pregiudizio di tornare un pochino con quella sana nostalgia alle pagine che, insomma, che abbiamo amato. La scrittura mi è piaciuta, devo dire che non è una scrittura particolarmente ricercata, è una scrittura piuttosto semplice, scorrevole e diciamo che la cosa che più mi ha coinvolto è stato appunto il fatto che l'autrice è riuscita a, prima di tutto, a rispettare la, come dire, l'aspetto storico, l'aspetto sociale e culturale dell'epoca in cui il romanzo è ambientato. E in più ha aggiunto quel tocco di fantasia che ha fatto sì che Le pene d'amore di Edward Gardner fosse un romanzo credibile, si sa ovviamente è frutto di fantasia quindi probabilmente Jane Austen non avrebbe scritto una storia di questo tipo, però il tutto appare assolutamente godibile, assolutamente consigliato per tutti gli amanti della zia Jane e per coloro che magari hanno voglia di una lettura leggera ma al contempo che rimanda a una letteratura importante e preziosa. Il secondo volume invece di cui vi parlo è il famoso libro che mi ha fatto molto arrabbiare, sto parlando dell'uomo delle leggende di Kenneth Johnson, edito la Corte Edizioni, uno degli ultimi volumi proposti da questa casa editrice. Diciamo che questo libro tra l'altro consta di quasi 400 pagine, ecco non vi ho detto, scusatemi, non vi ho detto che Le pene d'amore di Edward Gardner sono 288 pagine per 16€. In questo caso invece abbiamo, aspettate che adesso vi dico bene tutto, 389 pagine per 18,90€ la Corte. Allora diciamo che per la prima metà questo romanzo mi stava anche appassionando. Poi è arrivato, secondo me, uno dei momenti più trash di questo 2022, esattamente la metà. In breve di che cosa tratta? È un romanzo a più voci, ma a differenza di quello che era successo nel mese appena trascorso, e chi magari si fosse perso il wrap up nel mese di marzo, ve lo lascio nelle schede qui da qualche parte, così potete andare a recuperare. Qui la descrizione dei personaggi e le voci dei personaggi sono state, secondo me, studiate molto bene, perché tutte le voci erano riconoscibili, e quindi nonostante la mole dei personaggi, nonostante i saldi di prospettiva, il tutto era facilmente riconoscibile. Inizialmente, appunto, abbiamo questo protagonista che è avvolto e ammantato da un'aura di mistero, poiché sembra essere, appunto, una sorta di viaggiatore, del tempo e nel tempo. Attraversa varie epoche, cerca di instaurare delle relazioni positive salvifiche con altri personaggi, cercando di portarli, insomma, di far emergere le potenzialità di questi individui, di portarli sulla strada giusta, di fare in modo che possano compiere delle scelte felici e possano sentirsi concretizzati a livello umano, a livello intimo, a livello professionale, a livello sociale. Il tutto, appunto, inizialmente sembrava molto intricato, un vero di mistero, da far rimanere incollati alla pagina. Poi, che cos'è successo? Quello che viene anticipato, ovvero, se un uomo fosse condannato a vivere per sempre, cosa accadrebbe, in realtà sfocia, appunto, in una scelta letteraria, a mio avviso un pochino esagerata, un pochino trash, nel senso che alla fine, insomma, qui faccio un mini spoiler, quindi nel caso saltate questi minuti, si viene a scoprire che in realtà questo uomo delle leggende che attraversa il tempo, che salva tutti, altri non è se non Gesù Cristo, che deve combattere il male, ovvero il demonio. Qui, secondo me, si è proprio toccato una punta di, non so, di quasi ridicolo, che mi ha fatto proprio cadere un po' le braccia. Ecco, insomma, questo libro non mi ha esaltato, l'ho trovato, insomma, poi un po' poco, mi viene un po' anche difficile parlare, devo dire la verità. Un po' imbarazzante, ecco, sotto certi punti di vista, anche perché a un certo punto si arriva persino a ipotizzare che Gesù Cristo sia stato l'inventore dei jeans. Ecco, non lo so, secondo me a tutto c'è un limite e forse alcune cose dovrebbero rimanere nell'intimo della nostra riservatezza, ecco, e non finire su, su, insomma, delle pagine stampate. Però, se insomma, volete una lettura un pochino trash, ecco, l'uomo delle leggende secondo me può essere una validissima proposta. Passando dalle stalle alle stelle, arriviamo invece a quello che sicuramente è stato il romanzo che più di tutti mi ha coinvolto e mi è piaciuto nel mese di aprile, in quest'ultimo mese trascorso, e tra l'altro si tratta di un romanzo che ha, insomma, coinvolto la redazione di Ink Books, che è il sito letterario con cui collaboro dal 2014, per un, appunto, un gruppo di, un duetto di lettura comune. Sto parlando di un classico, di un autore classico inglese che io amo particolarmente e che sicuramente mi avrete già sentito nominare se mi seguite da un po', e si tratta di Thomas Hardy con il suo Estremi rimedi. Edito Fazzi, io lo possiedo in questa edizione degli anni 2000, che consta di, anche questo sono quasi 500 pagine, 481 e all'epoca costava 38.000 lire. C'è ancora grande tenerezza per tutto questo, ma ad oggi potete tranquillamente trovarlo nella nuova edizione Fazzi, quindi quella con le copertine che tutti noi ormai abbiamo imparato a conoscere se seguiamo questa casa editrice, e lo trovate se in versione digitale, se in versione cartacea. Thomas Hardy è, appunto, un autore che io definisco un autore del cuore, è un autore che io leggo con compassione e che riesce sempre a emozionarmi tantissimo, mi trasporta la sua scrittura a una sensibilità veramente intensa. Tra l'altro di questo libro ne ho parlato in una diretta Instagram, di cui vi lascerò il link, se volete andare a recuperarla, nella descrizione di questo video, in occasione della rubrica La Compagnia delle Pagine che, insomma, da qualche mese a questa parte, tengo insieme a Russana Orsi. Estremi rimedi è, tra l'altro, è stato il primo romanzo pubblicato da Thomas Hardy. In verità lui ne scrisse uno precedente, ma a seguito di alcuni rifiuti editoriali l'autore decise di sbarazzarsi di questo manoscritto, e quindi nessuno purtroppo potrà mai leggerlo, anche se io l'avrei fatto molto volentieri. Estremi rimedi, come tantissimi altri romanzi di Thomas Hardy, all'apparenza sembra il racconto di una storia d'amore, il racconto della crescita e dello sviluppo di un sentimento, con tutta una serie di dinamiche familiari e relazionali che vanno anche fuori dalla principale storia d'amore, ma in realtà non è così. Come esponente del novel of Sensation, Thomas Hardy infatti è famosissimo e rinomato, e i suoi romanzi con lui, per tutta una serie di colpi di scena, di intrecci narrativi e intrecci di personaggi, che io avvicino molto a quello che ad oggi è il concetto di serie tv. Se pensiamo alle più amate e viste serie tv degli ultimi anni, abbiamo tantissimi intrecci, abbiamo dei colpi di scena, abbiamo dei personaggi che sono collegati tra di loro ma inizialmente non lo sanno, abbiamo degli intrighi, abbiamo delle dinamiche che vengono nascoste e che poi improvvisamente riemergono creando scalpore, creando disagio e facendo in modo che i paradigmi che fino a quel momento erano stati fondanti e centrali all'interno della narrazione in realtà si tromino incredibilmente sbaragliati. Questo è quello che succede anche in Estremi Rimedi. Noi seguiamo principalmente le vicende della protagonista, dell'eroina, il cui nome è Siterea, e di alcuni personaggi che ruotano principalmente attorno a lei, quindi il fratello, alcuni componenti della sua famiglia, una donna, una nobile donna di cui Siterea si occuperà e di cui diventerà dama di compagnia, e altri personaggi che entreranno poi nel circolo delle sue relazioni. come sovente accade nei romanzi di Tomasardi e come vi accennavo prima, abbiamo una storia d'amore, una storia d'amore che sarà ostacolata da altri personaggi che si intrometteranno, da altri amori che si intrometteranno, ma che insieme creeranno appunto la maglia di cui vi parlavo prima che sarà capace di tenere incollati alle pagine i lettori. Tomasardi inoltre, come sempre, è un grandissimo indagatore dell'animo umano, della sensibilità umana, e riesce con le sue parole, con le sue descrizioni, con la sua penna che è da un lato minuziosa, molto descrittiva, ma dall'altro riesce anche a essere incredibilmente infuocata. Ci sono alcuni frammenti in estremi rimedi che veramente non possono che emozionare, non possono che accendere una scintilla all'interno del cuore del lettore, e questa è un po' la cifra importante di Tomasardi. Il fatto di unire l'attenzione, l'accortezza verso l'ambiente, verso l'ambiente esterno, verso la sua natura, i romanzi di Tomasardi sono sempre ricolmi di natura, si pensa nel bosco ad esempio, ma anche a Via della pazza folla. Unisce tutta questa attenzione ad una preziosa analisi, una preziosa accortezza che lui dedica ai rapporti umani, a come questi rapporti umani crescono tra di loro, mutano, cambiano, possono cambiare anche da un giorno all'altro, ma senza perdere di importanza, che è un po' quello che secondo me in tanti, anche nella vita al di fuori della pagina, dovrebbero comprendere per fare un po' meglio. Consigliato? Assolutamente sì, come consigliati ci sono anche tanti altri romanzi di Tomasardi che ho letto in passato. Se avete qualche curiosità, insomma qualche domanda, se volete dei consigli su dove iniziare, cosa leggere, cosa non leggere di Tomasardi, io ovviamente adesso ho sempre a disposizione perché parlare di autori come Thomasardi per me è sempre una grandissima gioia. Il quarto libro è un racconto, è un breve racconto e sto parlando di, anche in questo caso, un'autrice che è nel mio cuore, un'autrice classica, si tratta di Elisabeth Gaskell con questo breve racconto dal titolo curioso, se fosse vero. Edito Caravaggio Editore, nella collana dei frammenti d'autore, sono, adesso ve lo dico, 62 pagine per un totale di 8,90 euro. Questo racconto, inedito in Italia fino a quando, insomma, Caravaggio non l'ha pubblicato, è stato tradotto e curato da Miriam Chiaromonte. Si tratta di un racconto scritto da Elisabeth Gaskell, prolifica autrice di racconti e di romanzi amica di Dickens nel 1860 e appunto fino ad oggi in Italia non era possibile leggerlo in traduzione. Inoltre, questa edizione è, come spesso succede con i testi di Caravaggio Editore, arricchita non soltanto graficamente, non soltanto a livello esterno, ma anche internamente, con tutta una serie di tavole in bianco e nero che rimandano alle tematiche del racconto e anche mostrano com'era l'originale. Questi, insomma, questi allegati che Caravaggio Editore inserisce all'interno dei suoi libri rendono certamente preziosa l'edizione. Che cosa ci racconta Elisabeth Gaskell? Ci racconta di un sogno? Ci racconta di uno smarrimento temporaneo? Ci racconta di un'allucinazione? Non lo sappiamo, non lo sappiamo bene, sappiamo soltanto che il protagonista di questo racconto, dopo una passeggiata, si trova alle porte di un palazzo, di un castello, dove all'interno troverà tutta una serie di figure, di estranei, di persone che lui non conosce, ma che in realtà scoprirà di conoscere perfettamente. E noi lo scopriremo insieme a lui, perché all'interno di queste mura, all'interno di queste stanze nei giardini, noi insieme al protagonista e insieme a Elisabeth Gaskell incontreremo alcuni dei personaggi delle fiabe classiche e tradizionali sotto mentite spoglie. Quindi avremo tutta una serie di rimandi, tutta una serie di similitudini, una serie di richiami a La Bella Addormentata del Bosco, Barba Blu, La Bella e la Bestia e tutta una serie di cappuccetto rosso e tutta una serie di fiabe che hanno fatto parte della nostra storia, della nostra infanzia e che hanno caratterizzato anche, perché no, l'incontro e la scintilla, l'amore nei confronti delle storie, almeno per me è stato così. Io ho letto questo racconto in un pomeriggio, si legge veramente con godibilità, ah ecco c'è anche il noto ritratto di Elisabeth Gaskell all'inizio, e l'ho vissuto come una coccola, proprio perché la Gaskell con questo stratagemma letterario di, insomma, connettere la sua storia a delle storie trascorse e che sono per forza all'interno della nostra memoria riesce appunto a costruire un'atmosfera interessante, un'atmosfera agiata e che ha la forma di una carezza. Quindi anche in questo caso un libro che mi è piaciuto e che vi consiglio. Se invece, e questo esula da questo racconto, se invece volete leggere qualcosa di Elisabeth Gaskell a livello di narrativa, di romanzi, vi consiglio sicuramente La casa nella brughiera e Nord e Sud per cominciare. No, questo era un surplus. L'ultimo libro che mi ha tenuto compagnia nel mese di aprile del 2022 è una novità editoriale di una casa editrice che mi avete già sentito nominare e con la quale vado quasi sempre sul sicuro, nel senso che sa sempre rendermi soddisfatto. Sto parlando del nuovo romanzo di Roberto Camurri, edito NN Editore, Qualcosa nella nebbia. In questo caso si contano 171 pagine per un totale di 17 euro. Eccolo qua. Io vorrei soffermarmi anche solo 10 secondi sulla bellezza della copertina, sulla scelta di questo colore che è meraviglioso e ora che abbiamo parlato delle frivolezze parliamo del romanzo. Dunque, questo è stato il mio primissimo approccio con Camurri. So che in tanti aspettavano l'uscita di questo libro, so che in tanti hanno già amato gli altri lavori di Camurri, per me appunto è stata un'iniziazione. In questo romanzo l'autore ci riporta a Fabrico, che è il paese dove è ambientato anche il suo romanzo precedente, che io non ho letto. E qui faccio il primo appunto. Faccio una premessa, questo libro mi è piaciuto, però faccio un appunto. Non so, questo è però una cosa che scoprirò quando recupererò l'altro romanzo, perché sicuramente sarà una cosa che farò, perché la scrittura di Camurri mi ha conquistato. Ho il dubbio che senza aver letto il romanzo precedente questo possa risultare in alcuni punti un pochino fumoso, un pochino nebbioso, anzi per stare in tema con il titolo. Si capisce lo stesso, nel senso io ho compreso la storia comunque, però ho avuto questa impressione come se mi mancasse un pezzo, ma non a causa dell'autore o a causa del libro, ma a causa mia, perché mi mancava il pezzo precedente. Ma è stata solo una sensazione, non sono certo che sia così. Nel caso, se qualcuno ha letto qualcosa nella nebbia e precedentemente ha letto anche il romanzo appunto che anticipa qualcosa nella nebbia, mi faccia sapere se questa mia sensazione è corretta. In tal senso recupererò quanto prima, ciò che mi sono perduto. Cosa abbiamo all'interno di questo libro? Abbiamo una sorta di salto. Noi saltiamo sempre, saltiamo dalla biografia romanzata dell'autore che sta spostandosi in viaggio, quindi abbiamo proprio Roberto Camurri che fa parte di questa storia e in tal senso io ho vissuto un po' qualcosa nella nebbia come se fosse una sorta di esperimento metaletterario sotto certi versi, anche perché l'autore stesso entra in prima persona e in piena anima all'interno di queste pagine e appunto alla voce dell'autore si alternano le voci di altri tre personaggi che sono a fabbrico e vivono una specie di, da un lato una specie di epifania, dall'altro invece una sorta di risveglio, un dipanamento di questa nebbia che li avvolgeva e che oltre ad avvolgere loro avvolgeva anche l'autore. Tra le due sezioni, se così vogliamo chiamarle, anche se non sono, non c'è una divisione netta ma appunto c'è questa alternanza, però tra queste due alternanze la voce che mi è piaciuta di più è stata sicuramente quella dell'autore, anche perché all'interno delle pagine dedicate al pensiero di Camurri, di Roberto come lui poi alla fine si rivela, anche se si capisce dall'inizio che è lui che parla in prima persona. Ecco, Roberto ci parla anche di scrittura, del rapporto tra scrittore e scrittura, di come le aspettative del pubblico possano andare a influenzare anche la stesura di una storia, di come una storia evolve, di come una storia continua a macerare dentro di noi anche dopo che è diventata del pubblico. Ecco, tutte queste riflessioni che Roberto Camurri fa con competenza, con la competenza di chi questo mestiere lo fa e viene riconosciuto come facente parte della categoria tout court. Ecco, mi hanno sicuramente molto convinto e coinvolto, perché comunque essendo anche io autore di storie ritrovarmi nelle parole di un grande autore come appunto Camurri insomma mi ha coinvolto, mi ha scosso un po', ecco, diciamo così. Anche in questo caso la scrittura è estremamente scorrevole e il fatto che ci siano e che esistano questi salti tra una voce autorale e la narrazione di personaggi consente anche di, come dire, mantenere un ritmo di lettura molto incalzante senza che ci siano dei cali di attenzione o cali di interesse. Questo comunque dipende anche sicuramente dal fatto che la scrittura di Camurri è molto evocativa, molto bella. Ci sono tante immagini, ci sono descrizioni di stati d'animo, divagazioni su quella che è la professione dell'autore, dello scrittore. Quindi ecco, una storia sicuramente che ho amato leggere e che sono contento di aver scoperto. Eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione di questo nuovo Vrapa, di questo nuovo video. Questi sono, eccoli qua, i cinque libri che mi hanno tenuto compagnia nel corso del mese di aprile e spero di avervi incuriositi, mi stava cadendo tutto, spero di avervi incuriositi e di avervi dato qualche spunto di lettura. Nel caso fatemelo sapere nei commenti, io sono sempre contento quando si crea un dialogo tra di noi, anche qui sotto, e fatemi sapere se avete letto alcuni di questi volumi o se sono nelle vostre wishlist o se li avete inseriti dopo aver visto questo video. Grazie per essere arrivati fino a qui, grazie per l'ascolto e noi ci vediamo ad un prossimo video e nel frattempo buone letture e buona continuazione a tutti. Ciao!